Il Motoclub Aprile è nato circa nel 1971 collegato con Latina, noi eravamo un distaccamento del club Latina e siamo andati avanti organizzando generalmente il motocross, eravamo prevalentemente piloti da cross, eravamo un bel numero dove si viaggiava alla bene o meglio con le macchine, con i garelli, con la moto stessa si andavano i campi perché le possibilità erano quelle e abbiamo fatto nell'arco di circa 13-14 anni e poi il club nell'83-84 si è fermato perché vuoi che i piloti si erano stancati, vuoi che non c'era possibilità economica, vuoi anche e che il fondatore del Motoclub Aprile, il povero Franco Di Cesare, è morto da giovanissimo, non dovuto a cause motociclistiche per fortuna o per disgrazia sua, il poverino che era uno dei più grandi promotori e così ci siamo fermati e poi fino a quando il nostro amico e ex presidente del club Enzo Paggior ha riattivato il club provenendo da Anzio del Motoclub Inea e poi che anno era? Allora abbiamo iniziato con il Motoclub Aprile nel 1995, il nostro Motoclub è prettamente turistico, noi facciamo attività turistica e in quegli anni che ancora prima si voleva girare bene dove andavamo eravamo i primi, eravamo un bel gruppo e siamo ancora un bel gruppo, niente abbiamo dal 1995 poi abbiamo cominciato con i raduni, i raduni internazionali, frequentiamo raduni a livello rally PIM in Europa. Fate anche qualcosa per la sicurezza perché avete il patentino FMI e CONI per che cosa? Scorte tecniche, cose? Per la sicurezza facciamo anche, nel nostro club facciamo anche attività di scorte tecniche per le forze, l'attività di sicurezza è rispetto delle regole dell'estate, della strada, del codice e essendo poi tutti un pochettino nel nostro Motoclub è un'età molto un po' avanzata, però abbiamo lo spirito di ventenni, i ventenni non ci hanno adesso, i ventenni girano solo per… Quanti iscritti? Allora il Motoclub Aprile è uno dei primi della provincia di Latina come iscritto, siamo ancora nei 180 iscritti, insomma siamo uno dei primi, ogni anno arriviamo come iscritti tra i primi e i secondi insomma, siamo un bel gruppo e bella gente c'è nel nostro appuntamento del prossimo anno per i 30 anni dalla fondazione? Speriamo, noi finché ci abbiamo fiato, metteremo in moto i motori e via. Poi avete un altro evento a dicembre? A dicembre abbiamo un altro evento che è il quinto Polente e Motori, 8 dicembre, questa qui invitiamo a partecipare, c'è sul sito nostro, noi 30 giorni prima dell'evento metteremo tutto il programma, tutto il giro che si fa e invito tutti a visitare il nostro sito www.motoclubapriglia.it e scriveteci, noi vi rispondiamo, poi se volete partecipare siamo sempre dieti di accedere, avere anche altri amici di altri Motoclub, anche se non sono potenti stare con noi, vi possono aggregare, vi accettiamo volentieri. Possiamo fare, essere sempre presenti agli appuntamenti, purtroppo non tutti si possono fare, ma questo posto sicuramente in Motoclub lo faremo, e vedremo intanto. Grazie. 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 Grazie a tutti.